Ex star del grande fratello finisce in ospedale. La preoccupazione di tutti i suoi fan è apparsa palese in rete. La diciassettesima edizione si è conclusa il 25 marzo. Ma ancora alcuni protagonisti del reality fanno parlare molto di loro. Infatti, i telespettatori affezionati al grande fratello e ai suoi beniamini sono sempre pronti a seguire le loro vicissitudini. Lo fanno seguendoli sui social media. Ma una notizia arrivata proprio da Instagram li ha sconvolti particolarmente. Infatti, una delle ex star del grande fratello è finita in ospedale e a dirlo è stata lei stessa. Più precisamente, ha un dolore costante che necessita di un intervento per poter essere superato. Solitamente, si mostra dinnanzi alle telecamere sorridente. Ma questa volta, invece, non è proprio riuscita a trattenere tutto il suo scontento. Sono stati in molti a notare dalle sue ultime storie condivise sui social, un atteggiamento poco rilassato dell'ex GFina. Proprio per questo motivo, in molti hanno pensato che la tristezza della donna fosse dovuta alla situazione sentimentale con il suo compagno. La coppia era nata proprio all'interno della casa di Cinecittà e anche per questo motivo è molto apprezzata da parte dei fan. Grande fratello. Le parole dell'ex concorrente sul suo stato di salute. Mi dite che ho la faccia triste. Non sono triste. Però ho scoperto che devo operarmi? Ha affermato l'ex star del grande fratello sui social. In tal modo, ha messo a tacere le voci che pensavano fosse triste per via della sua situazione sentimentale con Sergio Dottavi. Infatti, parliamo proprio di Greta Rossetti. La quale è venuta a conoscenza di una malattia dopo aver effettuato degli accertamenti. Soffro di endometriosi. La cisti si è ingrossata e mi fa molto male. Ha affermato Greta Rossetti per poter spiegare ai suoi followers cosa avesse. Ho fatto il controllo medico e mi hanno detto che devo operarmi subito. Ha poi proseguito nella storia di Instagram. Va a comprimere il nervo della gamba. Ho un dolore incredibile. Ha infine aggiunto. Intanto i fan della ragazza sono molto preoccupati anche per l'amore a distanza che ormai sta vivendo con Sergio Dottavi. Quest'ultimo ha fatto ritorno a Roma. Mentre lei è rimasta a Monza e ciò sta destando preoccupazioni in chi ha creduto vivamente nel loro amore. Il periodo di Greta Rossetti non è dei migliori. Ma sembra che non ci sia stata una rottura con il fidanzato. Lei stessa aveva affermato. Tempo addietro. Che nel caso in cui i due si fossero lasciati. Allora i suoi followers sarebbero venuti a saperlo.